Spolto Regapistrello, non è partita mai banale, le due squadre regalano un pirotecnico 3-3 ai tifosi. Partono subito forte i rovetani che vanno vicino al gol in due occasioni, al secondo minuto e al quarto rispettivamente con Digirolamo e con De Roccis. Risponde lo spoltore Condirenzo al minuto 11, il suo destro deviato dal portiere rovetano in calcio d'angolo. Al minuto 17 passa lo spoltore, errato disimpegno di Digirolamo che serve Sparvoli, il numero 10 entra in area e viene steso da Brusca per il lettore di gara. Non ci sono dubbi, rigore, cartellino giallo. Lo stesso numero 10 dal dischetto trafigge Digirolamo per l'1-0. Al ventesimo azione personale di Sedrez che dopo essere entrato in area di rigore tenta la conclusione deviata e la sfera colpisce l'incrocio dei pali. Al minuto 31 arriva il raddoppio, fuga dello scatenato Sparvoli sulla sinistra, sterzata e assist per Di Renzo che fa 2-0. E con le immagini montate da Danilo Di Giandomenico passiamo alla ripresa subito. Terzo minuto ci prova il capistrello con Digirolamo, la sua conclusione si stampa sulla traversa. Al diciannovesimo miracolo del numero 1 azzurgrana su incornata di Di Renzo. Sedrez vicino al 3-0 al minuto 24, il suo destro viene deviato da Digirolamo con l'aiuto del palo, finisce in angolo. Dall'in poi è solo capistrello al minuto 28, De Rocis da due passi, trafigge l'incolpevole, Palene riapre la gara. Al minuto 34 si completa la rimonta, colpo di testa chirurgico di Fantauzzi su piazzate di Di Renzo e 2-2. Al minuto 45 contropiede micidiale, Mancini sigla il 2-3. In pieno recupero al minuto 53, ultimo assalto dello spoltore, Evanzia di testa fa esplodere il caprarese per il 3-3 finale. Sì, è stata una bella partita, dove nella prima parte hanno fatto meglio loro, nella seconda decisamente meglio noi. Purtroppo l'unica cosa stonata è un arbitro incapace, perché non è stato all'altezza di una partita di questa. Da dieci minuti di recupero, cosa mai vista nel calcio, si inventa punizioni, fa tutte cose che secondo me non c'entrano niente col calcio. Per non parlare di due regori clamorosi negati. Questo dispiace, sono contento della reazione dei ragazzi, perché secondo tempo abbiamo fatto veramente una grande partita, le abbiamo chiusi e noi abbiamo permesso... Di montare i due gol non è semplice? No, non è semplice, soprattutto dopo il primo gol che gli abbiamo regalato, perché secondo me la squadra aveva iniziato pure bene la prima parte della partita. Poi l'errore del portiere nostro, c'è un po' disuniti e loro ne hanno approfittato facendo i due gol e anche creando altre occasioni. Sicuramente, alla fine del primo tempo non avremmo accettato un pareggio, per come è arrivato assolutamente ce lo teniamo stretto, perché è arrivata da una reazione molto forte, perché riuscire a pareggiare una partita dopo aver preso tre gol nel secondo tempo che significa avere carattere, avere personalità e avere anche la voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo.